Nicolò Striccio un talento in mezzo al campo anche un talento sulla play si si diciamo che con la play non me la cavo come in mezzo al campo però giochicchio è un torneo che ha avuto notevole partecipazione notevole afflusso di persone che hanno collaborato e contribuito cosa ne pensi? Qual è la tua impressione? Penso che è una cosa bella e è una cosa anche per stare tutti insieme e divertirsi è stata organizzata molto bene Quali sono le tue ambizioni per questa prima coppa vinile? Vincere il torneo Grazie